Temperatura intorno ai 6-7 gradi, oggi al centro sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile, la squadra naturalmente si è allenata. Terza seduta in vista della partita contro il Cesera che si giocherà naturalmente domenica, appuntamento alle ore 15, al Dino Manuzzi. Due gruppi, il primo, quello principale, che dopo il riscaldamento ha svolto sul campo delle esercitazioni per lo sviluppo del possesso palla, tattica a reparti e infine delle partitine a tema. Nell'altro gruppo, il secondo, i calciatori che hanno svolto dei programmi individuali di recupero e quindi stiamo parlando di Kivu, di Jonathan, di Snyder e di Viviano. Faceva parte del secondo gruppo anche Andrea Ranocchi che però ha svolto una parte di allenamento individuale ma una parte anche sul campo. Domani invece sarà già giorno di vigilia, quarto ed ultimo allenamento, quello di rifinitura proprio in vista della partita contro i bianconeri e dunque sarà anche il tempo della conferenza stampa per mister Claudio Ranieri.